L'impresa riparte da un modello produttivo ed efficiente. Noi, in questi cinque anni di grosso lavoro, abbiamo dimostrato che investire nella digestione anaerobica significa non solo produrre energia rinnovabile, ma produrre soprattutto un modello agricolo capace di valorizzare i sottoprodotti, gli effluenti zootecnici, le culture in rotazione, quindi ritornare a coltivare il terreno, ritornare a fertilizzare in maniera organica il terreno, quindi riportando il carbonio nel suolo. Quindi noi pensiamo che questo sia un modello che possa essere preso ad esempio e possa trovare nella Sicilia un grossissimo potenziale. Io ritengo che oggi ci siano le condizioni per la Sicilia di avere la dimostrazione che questo è un modello vincente e grazie all'azione del governo, grazie all'azione del Ministero dell'Agricoltura con una delega forte al Sottosegretario Castiglione sulle tematiche agroenergetiche siamo riusciti ad avere una normativa sulla produzione di biometano che è la normativa forse più forte in termini di indirizzo alle aziende in Europa.